riabilitazione in acqua del paziente post ictus tema molto caldo specialmente quando è in arrivo la bella stagione si aprono molte più opportunità per il paziente che ha subito un ictus di accedere a queste determinate esperienze sia in piscina sia al mare ora innanzitutto dobbiamo fare una distinzione tra quella che è la riabilitazione in acqua quindi un atto terapeutico e quella che è l'esperienza di andare in piscina o al mare per il paziente che ha subito un ictus e cominciamo proprio con quest'ultima quella dell'esperienza ricordate sempre che qui condivido la mia esperienza personale ma specialmente clinica e professionale come sapete sono un fervido fautore della possibilità che il paziente si butti si lanci nella vita che non aspetti il giorno di stare bene o di aver recuperato la maggior parte delle proprie capacità per poter riabbracciare alcuni aspetti della propria vita e questo in senso generale andare a bersi una birra con degli amici a mangiare la pizza con la famiglia o anche una gita fuori porta anche con tutte le difficoltà del caso perché recuperare non è solo recuperare il movimento ma recuperare significa proprio riappropriarsi della propria vita frase che probabilmente fa indignare molti pazienti perché dicono è facile parlare da fuori io con tutte queste difficoltà io in carrozzina come faccio a fare le cose che facevo prima è chiaro non è possibile farle nel modo in cui si facevano prima avrà un sapore diverso dato dalle limitazioni dalla frustrazione dal confronto con quello che si era in grado di fare prima ma è comunque un'opportunità che noi ci diamo anche dal punto di vista terapeutico per affrontare alcune difficoltà di allenare il nostro cervello a risolvere dei problemi in definitiva l'idea è che è difficile pensare di poter recuperare tutto quello che sapevamo fare prima che era una vita piena fatta di tante esperienze facendo una vita rinchiusi in quattro mura della propria casa cioè non posso recuperare la vita totale se l'esperienza a cui mi sto sottoponendo è un'esperienza limitata della casa quindi quando pazienti e familiari mi chiedono ma potremmo andare al mare sarà il caso andare dentro l'acqua magari con tutte le dovute attenzioni e sicurezze è assolutamente un'esperienza incredibile quando per un periodo ho fatto le vacanze riabilitative quando invitavo i pazienti a casa mia a stare per un periodo dove facevamo terapia intensiva e nel frattempo si faceva un po di vacanza con il proprio familiare vivevo a pochi passi dal mare ero io stesso a portare alcuni pazienti in acqua per attenzione non lo facevo perché l'acqua era l'ambiente all'interno del quale doveva essere svolta la terapia lo facevo per far rivivere al paziente un'esperienza un'esperienza ricca di ricordi un'esperienza ricca anche di movimenti che noi facciamo in maniera spontanea automatica quando entriamo in acqua quindi assolutamente sì se il mare o la piscina viene vista come una esperienza che ha un inizio e una fine assolutamente quali sono gli svantaggi non ne vedo in realtà sono proprio contento quando vedo le foto dei miei pazienti che stanno al mare che si stanno godendo una giornata spensierata con i propri cari mi fa pure piacere vedere che sempre più strutture balneari sono più attente alle necessità di chi ha una disabilità che favoriscono la possibilità di fare più esperienze e passiamo però alla piscina e al mare come riabilitazione ecco qui purtroppo mi rendo conto che ho un punto di vista che va contro molti professionisti in gamba e stimati e che mi attirerò le ire di alcuni di questi come già è successo in passato però cominciamo un po a ragionare insieme magari anche in modo pacato il primo punto della mia argomentazione che secondo me non esiste la riabilitazione in acqua c'è la riabilitazione e c'è l'acqua l'acqua e l'ambiente l'ambiente all'interno del quale viene svolta la riabilitazione la riabilitazione diversa c'è la riabilitazione muscolare dove il terapista pensa che il recupero debba passare per un aumento delle capacità del paziente di contrarre le fibre muscolari allora propone degli esercizi di rinforzo poi c'è una riabilitazione neuromotoria dove l'ipotesi del terapista è che il recupero debba passare per l'inibizione o l'accentuazione di alcuni riflessi e quindi dovrà agire in maniera manuale con delle manovre o delle posture per poter regolare questi riflessi e poi c'è la riabilitazione neurocognitiva dove l'ipotesi alla base del terapista è che il recupero dipenda in maniera strettissima dall'attivazione dei processi cognitivi del malato ecco queste tre sono la riabilitazione poi dentro ci stanno nomi di tecniche nomi di approcci nomi di metodi però tutte confluiscono in queste tre grandi ipotesi di studio muscolare neuromotorio e neurocognitivo l'acqua è l'ambiente all'interno del quale poi il terapista decide qual è la sua ipotesi del recupero e quindi decide quali sono gli esercizi che deve somministrare al paziente quindi se il paziente sta in acqua e ha determinati sussidi di cui deve vincere la resistenza perché tendono a galleggiare magari deve portarli verso il basso oppure deve fare dei movimenti delle serie di movimenti comunque sta svolgendo una riabilitazione muscolare in un ambiente diverso che non è quello a sé come quello in acqua più difficile in acqua è svolgere una riabilitazione neuromotoria dove il terapista dovrebbe incidere manualmente con delle posture o con delle manovre per inibire o accentuare determinati riflessi si potrebbe pure fare una riabilitazione neurocognitiva in acqua ma solo come esperienza limitata per aiutare il paziente a rievocare determinati ricordi determinate sensazioni però poi si ritorna nell'ambiente all'interno del quale deve essere sviluppato il recupero l'apprendimento del paziente quindi ritorniamo all'idea che l'acqua va bene ma come un evento isolato come un'esperienza e ma l'acqua offre grandissimi vantaggi come quello della gestione della gravità quindi permette al paziente di svolgere delle attività in un contesto facilitante giustissimo lo dice la fisica il nostro corpo immerso in un liquido che è l'acqua ha una gravità diversa quindi abbiamo bisogno di meno sforzo per muoverci facendo meno sforzo è anche possibile che ci sia meno irradiazione ma torniamo al discorso che l'acqua e l'ambiente quello che conta nella riabilitazione sono gli esercizi allora gli esercizi a che cosa devono servire devono servire il paziente ad allenarsi a gestire il proprio corpo in un determinato contesto all'interno di una determinata azione tenendo conto delle abilità residue del paziente e di cosa ha danneggiato la lesione quindi nel caso dell'ictus la lesione che cosa ha danneggiato ha danneggiato il cervello nel cervello che cosa ci sono ci sono tutte le nostre abilità cognitive quelle stesse abilità cognitive che poi partecipano al movimento abbiamo discusso molte volte l'attenzione la memoria la percezione l'apprendimento quindi l'esercizio deve essere funzionale per poter incidere su tutte le funzioni alterate dalla lesione in questo caso le funzioni cognitive e deve rappresentare un problema che poi il paziente risolvendolo attraverso il proprio corpo e sviluppando tutte le sue abilità poi deve poter trasferire nel proprio quotidiano ad esempio l'esercizio di riconoscimento del movimento delle dita o dei tessuti di una superficie sono esercizi che aiutano il paziente a gestire gli elementi della propria patologia quindi la spasticità la reazione abnorma lo stiramento l'irradiazione lo aiutano ad attivare tutti i suoi processi cognitivi come l'attenzione la percezione la memoria tutte abilità che poi gli servono per gestire la mano quando sta a tavola che deve mangiare quando sta sul divano che sta guardando un film quando sta scrivendo al computer e questo trasferimento dall'esercizio alla vita quotidiana è la cosa più difficile che ci sia riabilitazione per questo poi il terapista deve rompersi la testa per aiutare il paziente a creare dei collegamenti tra l'esercizio e tutte le esperienze precedenti alla lesione quelle di creare altri collegamenti tra l'esercizio e l'effettiva attività quotidiana e all'interno della quale poi dovrà rimettere in gioco tutto quello che ha imparato ora è chiaro che l'esercizio deve essere diverso dall'attività quotidiana perché deve essere un'attività semplificata rispetto a quella quotidiana altrimenti il paziente ovviamente basterebbe che vivesse la propria vita e allora potrebbe recuperare non funziona in questo modo l'esercizio deve avere delle caratteristiche deve semplificare questa interazione col mondo per questo si scelgono determinati oggetti proprio per aiutare il paziente a entrare in rapporto con il mondo in maniera semplificata per lo stesso modo il terapista stesso offre le facilitazioni motorie non chiediamo al paziente semplicemente di fare dei movimenti ma lo accompagniamo all'interno di determinate azioni proprio per metterlo nella condizione di svolgere il movimento che si può permettere senza che compaia la patologia questo rigidimento del corpo quindi trasferire l'esperienza vissuta in acqua nel contesto reale potrebbe essere più complesso ricordando anche che l'esperienza in acqua molto probabilmente ricade in quale sfera della riabilitazione motoria neuromotoria e neurocognitiva maggiormente in quella motoria anche se c'è l'aspetto neurocognitivo è ovvio che c'è tutta la riabilitazione neurocognitiva perché viene svolta con un paziente che è sveglio cosciente sta lì fa esperienza di quello che sta facendo quindi in qualche modo la sua attenzione memoria percezione apprendimento sono sviluppati il problema è che l'esercizio non ha l'attivazione cognitiva come nucleo concettuale ma ha l'attivazione muscolare al paziente va benissimo al paziente piace paziente spesso non si rende conto ha un metà parte del corpo che non si muove quello che vuole quello che desidera è che qualcuno lo alleni a fare il movimento è difficile che si renda conto che per produrre questi movimenti debba passare attraverso un attivazione cognitiva che non è visibile non è misurabile difficile da comprendere difficile da studiare quindi nella maggior parte dei casi la riabilitazione in acqua è molto ben gradita dai pazienti perché addirittura lì in acqua riescono a fare dei movimenti che a secco non riescono a fare perché riescono a gestire il corpo tutta un'altra disinvoltura quindi gli da quel fascino delle possibilità in più cosa che magari non percepisce quando è aiutato dal terapista anche se magari quel movimento è pulito libero dalla patologia però sente di non farlo in maniera autonoma indipendente quindi in conclusione piscina e mare come esperienza di vita che abbiamo inizio una fine che può essere anche ripetuta perché fa piacere va benissimo piscina come riabilitazione va mostrato il mio punto di vista e spero che i colleghi che si occupano di riabilitazione in acqua non si risentano ma possiamo produrre una conversazione insieme e ricordatevi che io sto parlando della riabilitazione dell'ictus perché la riabilitazione di un politraumatizzato dopo un incidente va bene non è il mio campo non mi pronuncio anche in quei casi avrei auspicato ad una riabilitazione con maggiori componenti neurocognitive perché il fatto che sia una lesione ortopedica non significa che questa sia separata dal sistema nervoso centrale e che segua delle regole strettamente diverse però in definitiva sono pazienti che comunque in qualche modo poi alla fine se la cavano nel caso dell'ictus probabilmente devono essere seguite delle regole in maniera un pochino più serrata io mi rendo conto che sono come quel vecchietto che sente la radio in autostrada che c'è un pazzo che va a contromano e dice ma che un pazzo qui sono tanti perché ogni volta mi metto a discutere su delle cose che sembrano normalissime per la maggior parte lo stretching e le mobilizzazioni addirittura la riabilitazione in acqua però chissà un dialogo una discussione su tematiche che sembrano così molto consolidate nel nostro modo di agire potrebbero anche arricchire la nostra professione Grazie 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 Grazie